cosplay storia di sesso e di katana fuori città una mezz'ora di auto verso la campagna distolgo gli occhi dalla strada e la guardo accanto a me sul sedile del passezzero lei è truccatissima un disegno di occhi allungati che forse vorrebbero sembrare orientali e invece fanno pensare a Cleopatra illuminato per un istante dall'insegna di un agriturismo non ho idea di che personaggio voglio interpretare devo confessare che non so un cazzo di manga e neanche me ne frega di saperlo quello che mi interessa è la ragazza per qualche minuto fisso la strada scura fradice di pioggia è troppo buio adesso per vederla bene la mia bambola di stanotte ma me la sono studiata bene prima al padiglione minigonna coscia al vento camiciola aperta sul push up che rigonfia le deliziose tettine quasi da adolescente sempre così tutti gli anni tutte queste giovani donne in costume che arrivano a lucca per fare il cosplay travestite da personaggi più o meno noti dei fumetti tutte senza prenotazione in albergo tutte che non sanno dove andare a dormire lucca comics che a quanto ne so dovrebbe essere tuttora la più grande fiera del fumetto in italia e una delle più grandi d'europa le attira come mosche al miele per la maggior parte hanno le sembianze di personaggi che proprio ignoro chi siano sarà che oltre che autore di fumetti sono un lettore di fumetti cresciuto però ai tempi di bonelli e galleppini angela e luciana giussani guido nolitta ugo pratt alfredo castelli bonvi comboli e mattioli magnus bunker e poi ancora la marvel e la dc comics che nulla aveva a che fare con la dc al potere se non ironia della sorte l'acronimo per non parlare delle ristampe dell'uomo mascherato e di mandrake che però avendo io studiato l'inglese mi è sempre venuto da chiamare mandrake quando tutti lo pronunciavano ancora mandrake in un modo o nell'altro si finisce sempre per essere diversi da chi è arrivato prima e da chi è arrivato dopo tipo questa qui me la son guardata bene oh sì al padiglione un culo che me lo mangerai a morsi curioso che mi vengano in mente idee del genere certe perversioni mi sono aliene eppure a volte mi sorprendo a pensare cose che non mi sognerai mai di mettere in pratica dato il suo costume manga nemmeno la cosplayer deve avere la minima idea di chi io sia veramente certo allo stand si capiva che io sono il creatore sceneggiatore illustratore di gunslinger ma quando la serie è uscita in edicola lei non era ancora nata e anche se ora le raccolte in volume sono opere di culto in libreria e fumetteria è poco probabile che questa tipa se ne vada a comprare non saprà nulla della mia lunga carriera di fumettista in italia ed illustratore anche all'estero l'unica cosa che avrà capito è che conto qualcosa nell'ambiente dei comics a modo mio sono una star c'è gente che si mette in coda allo stand della casa editrice per chiedermi uno schizzo autografato di gunslinger o di uno dei suoi comprimari passano ore in attesa e si presentano con la lingua penzoloni e gli occhi da ho visto la madonna deve averli notati anche lei ha capito che sono una importante deve essere per questo che poi quando ho lasciato lo stand liberandomi finalmente dei questuanti mi si è avvicinata ma non ho neanche avuto bisogno di farlo io scambiate due chiacchiere ho saputo che non sapeva dove passare la notte e mi sono offerto di ospitarla poverina non potrebbe essere più perfetta di così con il suo zainetto il suo vestitino manga da costume player con quella minigonna che lascia trasparire mutandine bianche e sottili so già come andrà gliele farò scivolare tra le grandi labbra perché si impregnino a dovere dei suoi umori poi le metterò in una scatola sicillata che ne conservi il profumo aprirò solo di tanto in tanto per respirarlo e ricordarla lo faccio con tutte certe scatole sono lì da anni ma se le riapro sento ancora lo stesso aroma come se fossero ancora lì come se non se ne fossero mai andate riesco a riconoscerle perfettamente all'olfatto non ho neppure bisogno di etichettare i contenitori ognuno ha il suo odore caratteristico e ogni odore porta con sé i ricordi della notte che abbiamo passato insieme è stata una grande idea quella di comprarmi questa vecchia casa di campagna fuori Lucca tranquilla, solitaria, con tanto di giardino e orticello il posto ideale per lavorare in pace e per portarci le ragazze imbocco il vialetto e lo seguo fin quasi alla porta di casa siamo arrivati, le annuncio apro la portiera, scendo lei mi imita sta ancora diluviando lei corre al riparo sotto il portico mettendo i piedi in una pozzanghera che le schizza di acqua marroncina le scarpe da ginnastica e i calzettoni bianchi ti stringe le braccia al seno infreddolita alla luce della lampadina sopra la porta mentre mi frugo in tasca in cerca delle chiavi le guardo le gambe nude, solide, lunghe apro la porta allungo una mano per accendere la luce e la lascio entrare per prima benvenuta nella mia umile dimora le dico sentendomi un po' il conte Dracula fa caldo qui nota lei con sollievo ho lasciato accesso di scaldamento rispondo mentre la conduco in salotto lei mette lo zaino a terra e si guarda in giro posso togliermi le scarpe? certo si inginocchia dandomi una bella prospettiva delle cosce e scioglie i lacci delle scarpe poi ci penso un attimo e si sfila anche i calzettoni si rialza fa due passi a piedi nudi sul tappeto e guarda gli oggetti in esposizione sui mobili cosa sono? sorrido la mia collezione di lame orientali se avesse letto la mia mini serie la pantera di Sarawak le potrebbe riconoscere tutte Chris, Golok, Karambit, Parang inutile che gliele elenchi passo al pezzo forte della collezione sollevo la catana dal supporto la sfilo dal fodero e gliela mostro facendo scintillare l'acciaio alla luce il tempo sembra fermarsi per un istante ma non voglio spaventarla rimetto a posto la spada vieni ti faccio vedere la casa e la tua stanza per stanotte lei raccoglie lo zaino, scarpe e calzettoni e mi segue le faccio vedere il mio studio con il tavolo da disegno la scrivania e la libreria traboccante di volumi su cui si trovano le riproduzioni in metallo di armi da fuoco dell'ottocento poi la porto al piano di sopra sulla parete della scala sono appesi incorniciati gli originali di alcune tavole realizzate per la copertina dell'edizione francese di Gunslinger per i collezionisti potrebbe valere centinaia di migliaia di euro ma le illustrazioni che preferisco non sono mai state pubblicate le vedo solo io sono nella mia stanza speciale quella che stanotte riserverò a lei apro la porta qui alle pareti ci sono solo loro le mie ragazze le mie cosplayer che ho ritratto nude e distese proprio su questo letto dopo la nostra unica notte e riguardo ed è come se fossero ancora qui i miei teneri piccoli angeli lei ha deposto a terra lo zaino e lasciato cadere scarpe e calzettoni si è seduta sul bordo del letto mi incinocchio sul pavimento davanti a lei e le prendo un piede tra le mani è freddo glielo bacio non sono un feticista delle estremità per me sono solo la porta che conduce ai polpacci alle cosce e a ciò che vi si trova in mezzo la sorgente del profumo le sue dita hanno già preso a muoversi come fossero zampe di ragno ho imparato a non crearmi false speranze a non illudermi quando un uomo comincia a baciarmi dai piedi a meno che non abbia qualche inclinazione feticista prima o poi risale può farlo d'impedo o con pigrizia ma prima o poi arriva là dove si è prefissato di arrivare meglio che lo faccia subito allora incoraggio i suoi movimenti non abbiamo bisogno di attese trascino la sua mano verso l'alto verso il ventre ed ecco le sue dita manifestare un'urgenza la sciva suggerimento di rapace bramosia voglio essere io a condurre questa volta come tutte le altre ho temuto e al contempo desiderato di trovarmi in questa situazione esattamente in questa ho fatto il possibile affinché mi notasse fasciata nel migliore dei miei costumi agghindata al meglio l'ho osservato in silenzio godersi quelle rosicchiate ore di simil celebrità cazzo deve essersi sentito una star mentre gli rivolgevo il più seducente dei miei sguardi metà da adulta ninfomane metà da bambina innocente così mi vogliono gli uomini così mi ha desiderata anche lui mi hanno sempre desiderata tutti senza che facessi particolari sforzi questa volta però non ho voluto sottrarmi al poi ho seguito il lupo nella sua tana ho sedotto e ora attendo più o meno consapevole la giusta punizione per aver osato tanto inutile di vincolarsi poco sensato anche protestare incoraggio e attendo con questo cazzo di costume manga ho dovuto indossare mutandine bianche rinunciando al solito perizoma nero che fa apparire il mio culo più bello di quanto già non sia spero apprezzi spero facciamo molto bambina cattiva ma non vedo l'ora di disfarmene per non parlare poi dei calzettoni bianchi quelli li ho sfilati io appena possibile non abbiamo bisogno di attese molto meglio le autoreggenti ben più indicate per gambe eleganti quanto le mie lui mostra di avere altre idee nessuna intenzione di disfarsi degli slip nell'immediato vale divertirsi ora sembra lui il bambino ma sono abituata anche a questo la regressione del maschio nell'atto sessuale non è per me cosa nuova ci passa veloce le dita le costringe tra le grandi labbra preme e allenta a tempi alterni se solo riuscissi a staccare il cervello sospetto che riuscirai persino a goderne lo lascio fare cerco qualcosa da guardare un segno sul soffitto cerco e trovo lui intanto mi accarezza il sedere e la cosa mi piace se solo potesse smettere di giocare con quelle mutande o scene accosta le labbra vicino al mio culo ma lontane dalla stoffa dell'indumento intimo quasi temesse di rovinarle con qualcosa che non mi appartiene che non è mio la verità è che ciò che ho intorno mi fa sentire impotente non solo ma anche inerme e un sacco di altre cose indifesa inerme infelice e poi che altro ah sì eccitata dannatamente eccitata è un dolore dalle mani piccole quello che mi sta mangiando un pezzetto dopo l'altro le sue invece sono mani grandi che ora stanno sui miei seni mai cresciuti ma paiono piacerli così come sono appena accennati li stringe ci indugia di succhia sorpreso dalla reazione immediata dei capezzoli grandi ben fatti torno a cercare lo stupido segno sul soffitto da cui avevo distolto lo sguardo per abbandonare la testa sul cuscino ma sapevo che presto o tardi ci avrei inevitabilmente buttato di nuovo gli occhi polvere polvere ovunque ubiquità della polvere ai massimi storici l'altro canto considero neanche i pesci vivono nell'acqua pulita posso sentire la sua erezione sulle gambe in questo momento tutti e due stiamo amando la stessa bambola io quello che sono stata e della quale non conservo più memoria lui quella disinibita che annuda sul letto si libera anche lui dell'impiccio dei vestiti mentre le mie mutande restano pressoché al loro posto rimane come stordito sopra di me cercando il mio sguardo che non gli permetterò di trovare capisco che mio malgrado non mi prenderà subito si china per sfilarsi i pantaloni del tutto qualche mossa è decisa però di nuovo sopra e l'accolgo cingendogli le gambe al bacino lasciando che i miei movimenti si facciano più rapidi e convulsi voglio che finisca voglio che venga inarco per bene la schiena affinché possa stringermi facendo passare le braccia dietro al dorso come fossi la bambola che ero sono io ad essere totalmente preda dei sensi e a raggiungere con le sue dita un piacere inaudito uno di quelli che ti inducono a pensare che potresti morire nell'esatto momento in cui smetti di godere il momento è arrivato lei non lo sa ma la lama è sotto il cuscino da oggi pomeriggio da prima che la incontrassi la conoscessi la scegliessi l'acciaio del suo destino era qui ad aspettarla non sarò violento non sarò brutale non intendo farla soffrire basterà un affondo netto e preciso poi ci sarà molto da fare dovrò farle il ritratto o mettendo sulla tavola la ferita e il sangue che le imbratterà questo corpo delizioso dovrò trascinarla in bagno e farla a pezzi nella vasca per poi seppellire i resti in giardino dovrò bruciare le lenzuola il materasso è rivestito di un telo di cellofan per evitare che si imbeva di sangue ma di lei resteranno le due cose più importanti la sua effigia e il suo profumo riguardo i miei angeli nelle loro raffigurazioni tra poche ore questa ragazza diverrà una di loro a vederle sembrano ancora vive così giovani così adorabili prese immortali prima che i loro corpi fossero meticolosamente smembrati e sepolti i loro ritratti sono tutto ciò che ne resta i ritratti il loro profumo più intimo nelle mie scatole e ogni tanto le foto in tv a chi l'ha visto ho sempre l'accortezza di abbandonare qualcosa di loro una scarpa uno degli oggetti che fanno parte del loro costume sul ciglio di una strada molto lontana da qui possibilmente vicino alla loro città di provenienza in modo da lasciar pensare che siano scomparse mentre stavano rientrando dalle famiglie funziona benissimo ogni volta sono anni che pratico questo dolce rituale sempre nella notte tra il primo e il secondo giorno di novembre e ancora nessuno ha usato le fatidiche parole serial killer per fortuna è una definizione che troverai offensiva al di fuori della fiction gli assassini seriali non sono altro che mostri senza cervello ma ce l'hai brutali senza rispetto per le loro vittime io invece le amo le mie bambole le amo le faccio mie e le rendo immortali la lama non è una raffinata arma orientale è solo un pratico coltello da caccia dalla punta molto accuminata mentre una mano accarezza il culo della ragazza l'altra scivola sotto il cuscino stringendo sicura il manico del coltello sarà l'ultima penetrazione l'estremo sacrificio la deflorazione del suo cuore non ho nemmeno tirato fuori la mano da sotto il cuscino che mi ritrovo spinto fuori dal letto da un calcio a piedi uniti sono disteso sul pavimento stordito devo aver battuto la testa possibile che lei sapesse cosa stavo per fare però ho ancora il manico del coltello ben saldo tra le dita lei sguscia dalle lenzuola nuda e un suo calcagno mi atterra sul polso sono costretto a lasciare la presa sulla lama e un attimo dopo vedo guizzare il suo piede scalzo che scalcia il coltello sotto il letto poi la ragazza corre fuori dalla stanza mi massaggio la testa con la mano sinistra pian piano comincia a crescere anche il dolore al polso destro rifletto in una frazione di secondo potrei cercare il coltello sotto il letto ma lei avrebbe il tempo di fuggire immagino la scena che per quanto eccitante al solo pensarci sarebbe disastrosa lei che scappa nuda da casa mia corre sul violetto con i piedi tra le pozzanghere con la magnifica pelle bianca e liscia delle sue lunghe gambe che si chiazza di fango scivola si rialza con le deliziose tettine macchiate di acqua terrosa come una piccola porcellina e corre verso la strada dove non passano mai automobili ma si scommettono le palle che proprio stanotte i fari di una macchina illumineranno il suo corpo nudo da vittima e lei racconterà che stavo per ucciderla non lo posso permettere mi rianzo appoggiandomi sulla mano sinistra e scendo le scale a perdifiato nudo come sono strano non è andata verso la porta si è rifugiata in salotto si è messa in trappola da sola eccola la lurida porca disobbediente pronta ad essere sgozzata ne farò male si sono costretto devo punirla afferro il goloc dal manico intagliato a testa di tigre mentre lei indietreggia non l'ho mai usato su una donna ma all'improvviso mi vengono in mente nuove idee cose che non ho mai fatto ma che forse in segreto desideravo potrei afferrarle un capezzolo e strapparle una tetta con un colponetto mentre lei è ancora viva non ho mai provato un'eccitazione simile ne avvicino lei si tuffa verso la katana la ferra la estrae dal fodero e comincia a farla saettare nell'aria con inaspettata perizia è bellissima sembra una donna samurai a volte queste cosplayers a forza di leggere fumetti giapponesi rivelano doti insospettabili ma è solo una bambola confusa e spaventata e non riuscirà ad usare questa spada contro di me ne amputerò la mano destra con un colponetto di goloc prima di calare la lama sul suo collo sono sempre più vicino ansante per la corsa e il desiderio un tratto provo una strana sensazione come se il gelo dell'acciaio mi fosse passato attraverso non so come sia successo vedo il manico della mia katana che mi sporge dal ventre dove può essere il resto della spada dentro di me questo vuol dire che la lama mi sporge dalla schiena cado in ginocchio come se avessi inscenato un seppuku la guardo non è più una bambola confusa e spaventata ora è una donna che sa quello che fa ora è una mi sono rivestita ho indosso la cerata nera che tenevo nello zaino adesso non ho più bisogno di sembrare la timida adolescente indifesa affascinata dal grande fumettista i disegni e le illustrazioni originali sono arrotolati in un lungo sacchetto di celofan rosa bene al riparo dalla pioggia ho ripulito tutto quello che ricordo di avere toccato soprattutto la katana con un po' di fortuna penseranno a un suicidio rituale mi tocca tornare a piedi se rubassi la sua macchina la messa in scena non funzionerebbe mentre cammino tiro fuori il cellulare dallo zaino faccio il numero si li ho presi tutti li ho con me ho anche parecchie tavole inedite ma adesso mi dovrete pagare di più lui è morto si è suicidato per cui ora i suoi lavori valgono di più voglio più soldi e mi sembra il minimo il committente mi ha detto che dovevo fingermi una cosplayer adolescente ok mi divertivo a fare i cosplayer al cartoon mix e al comic fino all'anno scorso ma adesso sono maggiorenne e non ho più tempo da perdere il committente mi ha detto che al fumettista pervertito piacevano le ragazzine e che se occorreva dovevo anche farmi scopare ok non è che l'idea mi andasse a genio ma se era proprio necessario solo che lo stronzo non mi ha detto che il tipo era anche uno psicopatico e mi voleva scannare non me ne frega un cazzo se il committente non lo sapeva ma secondo me questo era un fottuto serial killer per fortuna a certe cose ci sto attenta e mi sono accorta del coltello sotto il cuscino non ce l'ho mica scritto sul contratto di lavoro che per derubare un tizio devo rischiare di farmi ammazzare rimetto il cellulare nello zaino e sento tra le dita il piccolo souvenir che mi sono presa erano in una scatola in mezzo a tante altre un paio di mutandine non resisto alla tentazione le prendo e me le porto al naso aspirandone il profumo niente male se non altro il tipo aveva buon gusto per le femmine non per niente ha scelto me non per niente male